Per me è stata una vittoria soffertissima, una gara giocata praticamente tutta in dieci, ancora una volta i ragazzi hanno mostrato carattere, hanno mostrato forza mentale, fisica, insomma di tutti i tipi ed è una vittoria pesantissima la vigilia dello scontro diretto. Affrontavamo una squadra che veniva da tanti risultati positivi, allenata bene, i ragazzi oggi hanno superato tutti gli ostacoli, cioè giocare tantissimi minuti in dieci contro una squadra del genere e avere le migliori occasioni del gol, perché le migliori occasioni del gol abbiamo avuto noi e non è da tutti. Però io ero una squadra di uomini, oggi eravamo senza pignatare la vopa dall'inizio, poi abbiamo perso pure i vici domini. Dobbiamo stare attenti però, perché soprattutto in questi momenti non dobbiamo fare errori, dobbiamo cercare di giocare sempre 11 contro 11. La settimana scorsa aveva chiesto rispetto dopo la partita con l'Unione, anche oggi ci sono degli episodi da rivedere, sono partite un po' complicate negli ultimi tempi. No, guarda, io dopo domenico ho deciso di non parlare più, io mi esprimo una sola volta, anche perché visti i risultati di oggi sarebbe deleterio. Io dico solo che secondo me bisognerebbe premiare un po' di più il gioco del calcio, non chi tende a perdere tempo, chi tende a provocare gli avversari. Queste cose qua a me danno un po' fastidio, però per il resto pensiamo solo al calcio giocato, l'odiamo sti ragazzi che io sto perdendo pure i conti, non so quante partite abbiamo vinto. Stiamo facendo un miracolo calcistico perché sono risultati che non si sono mai ottenuti in Puglia, quindi adesso pensiamo a mercoledì che è una bella battaglia. Mercoledì è un'altra partita a giocare col coltello tra i denti, ma ormai il destino del Barletta è questo. Bisogna andare a Melfi, vincere per continuare anche in coppia. Sì, purtroppo quando fai il triangolare e giochi la prima rischi poi che la seconda il risultato sia un po' brutto, però va bene, dai ce l'andiamo a giocare coscienti che stiamo facendo bene, a testa alta, qualsiasi sarà il risultato. So che andremo su un campo brutto, brutto perché ho parlato con alcuni miei colleghi della Basilicata, è difficile fare un certo tipo di calcio su quel tipo di campo perché sta messo male il campo, però noi cercheremo con i denti di portarci via una vittoria, daremo il massimo come sempre.